quale mazzo converrà acquistare tra i quattro starter presenti nel tcg di one piece quali stili di gioco gli apparterranno e quali saranno le carte in essi contenute nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale giorni fa ho avuto il piacere di partecipare ad un doppio evento in quel di grande inverno che ha visto l'avvenimento di lancio più atteso di questo 2022 ovvero la possibilità di acquistare ed utilizzare in torneo i quattro mazzi tematici di one piece ed è proprio durante queste due giornate che ho avuto modo di rubare con gli occhi le varie strategie di gioco che ognuno di essi ha offerto partita dopo partita analizzando anche con i presenti in loco gli archetipi di appartenenza di ogni deck prima di iniziare se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica vi consiglio di visitare fantasia store dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta in descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti in più per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5 per cento su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice crogiolo 5 utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari gcc e se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno la consegna sarà a casa vostra in 24 48 ore cosa state aspettando se cercate i migliori articoli fantasia store sarà la risposta in più volevo invitarvi ad iscrivervi al canale dato che molti di voi guardano i video dell'arconte del crogiolo ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti pensate che se tutti voi lo faceste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti quindi il vostro supporto è fondamentale datemi una mano a far crescere la community basta un singolo clic ed ora scopriamo assieme se converrà acquistare i quattro mazzi tematici per il pre-release di one piece analizzandone caratteristiche e dando una prima sbirciata alle meccaniche che li muoveranno andiamo a dargli un'occhiata non appena aprirete un mazzo del tcg di one piece vi salterà all'occhio la presenza di una scritta dorata indicante il super pre-release sarà da notare che questo dettaglio sarà presente solo ed unicamente su questa tipologia di carte a differenza di quelle in arrivo previste per dicembre dove questa dicitura non sarà presente e già solo per questo piccolo particolare vi consiglierei di acquistarli tutti e quattro soprattutto se siete dei collezionisti ma andando oltre ciò osserviamo più da vicino il contenuto dei quattro starter partendo con l'affi passando per kaido e kid fino ad arrivare a crocodile descrivendone non solo gli archetipi di appartenenza ma anche le prime sinergie di carte che durante le due giornate di evento ho visto utilizzare il più delle volte dai giocatori presenti in fumetteria se sceglierete l'affi di sicuro avrete a che fare con il classico mazzo aggro con forti influenze da parte di un altro archetipo di deck ovvero i combo la peculiarità che contraddistinguerà alcuni dei character oltre allo stesso leader sarà la capacità di assegnare don esausti ai vari personaggi presenti sul terreno e ben sette risponderanno all'appello l'affi leader le quattro copie di nami e le due copie di brook i primi due con effetti ricorrenti il terzo con effetto home play quindi una sola volta dopo essere entrato in gioco e utile anche per eventuali counter con 2000 più mentre la bellezza di otto carte vi permetteranno di potenziare in autonomia i vostri personaggi sul terreno aumentando a loro stessi o ad altri compagni di ciurma il valore di potenza di mille punti a rispondere presenti su questo aspetto ci saranno le quattro copie di gimbe le due copie della thousand sanni e le due copie di zoro poi toccherà la fase rush che fornirà più aggressività la quale vedrà le quattro copie di sanji e le due copie di la fi character farne parte quest'ultimo avrà inoltre una caratteristica in comune con asop presente in quadruplice copia nel deck che attraverso l'assegnazione di due don quando attaccheranno potranno rispettivamente il capitano vietare a chi difenderà di impiegare creature con blocker sul terreno ed il cecchino la stessa cosa ma con la limitazione dei 5000 punti di forza o superiori da parte dei personaggi sotto il controllo rivale poi sarà presente la sezione controllo campo che con le quattro copie di vivi a costo 2 quattro copie di robin a costo 3 e quattro di frankie a costo 4 rappresenteranno la minaccia sempre costante che intimidirà l'incolumità di chi vi giocherà contro ultimo reparto della tipologia dei personaggi sarà l'immancabile carne da cannone che con le quattro copie di chopper come blocker e le altrettante copie di karu come carta da utilizzare idealmente solo come counter vi permetteranno di respirare se l'ingranaggio del mazzo tarderà ad attivarsi per quel che basta infine le carte evento daranno quel pizzico di equilibrio che in un rush combo non guasterà mai la doppia copia di jet pistol vi permetterà di mettere ko un personaggio avversario con più di 6000 punti di attacco la duplice copia di point guard rafforzerà la difesa in caso di attacco verso character che non si avrà intenzione di perdere e la duplice copia di diable jump consentirà di eludere l'abilità blocker di una carta presente sul terreno avversario garantendo quel poco di aggressività in più che in casi critici tornerà molto utile poi ci saranno i vari effetti trigger che se vorrete attivarli dopo aver rivelato la carta dalla pila della vita vi garantiranno altri effetti davvero interessanti come fornire più mille ad un personaggio attaccato mettere ko un blocker sotto il controllo rivale o semplicemente attivare l'effetto main dell'evento di sicuro un buon mazzo per tutti quei giocatori il quale pallino fisso nella mente sarà solo uno attaccare sì ma facendolo nel miglior modo possibile e nella maniera più pesante possibile e così dopo aver visto la fi e la sua composizione vediamo invece il possente kaido come si presenterà ad ogni aspirante re dei pirati se sceglierete kaido dovrete fare i conti con un buon vecchio mazzo contro il tempo dove ogni turno dovrà essere giocato al massimo del suo potenziale considerando che tra tutte le carte del deck ci sarà solo la quadruplice copia di jim rammi come personaggio a costo 1 che farà parte il più delle volte del reparto carne da cannone attraverso il suo utilizzo come counter assieme a black maria che invece sarà più utile sul terreno attivando l'abilità blocker capirete ben presto da voi che il costo medio di kaido sarà pesante da sostenere se non adeguatamente gestito il leader avrà un effetto che se innescato nel momento giusto potrà risultare devastante al costo di 7 don sottratti dal terreno e riposti nel loro mazzo dedicato potrete mandare nella pila degli scarti una vita del vostro avversario ciò starà a significare che eventuali effetti trigger non verranno attivati e sottrarrete un'eventuale risorsa vitale al servizio di chi vi giocherà contro il corpo principale di questo mazzo avrà la bellezza di 16 carte quasi la metà che agiranno come sfondamento verso le difese nemiche avendo 4 copie di drake 4 copie di ulti quest'ultima utile anche per eventuali counter con 2000 più che aggiungerà ulteriormente valore se avrete in mano un page one giocando di seguito quest'ultimo al costo di un solo don fatto ritornare dalla zona specifica al mazzo designato aumentando l'aggressività sul terreno essendo page presente anch'esso in 4 copie e a contornare questo settore i 4 ships head a costo 2 saranno ottimi per sferrare attacchi iniziali all'avversario essendo così massiccio a livello di funzione i 4 sasaki e le due copie di queen la quale avrà anche un'ottima abilità blocker con 6000 di potenza vi permetteranno di velocizzare le pescate attraverso il costo di un don riposto nel suo mazzo andando rispettivamente a pescare una carta per il primo e due per poi scartarne una dalla mano per la seconda per la parte control del mazzo avrete a disposizione un trio d'eccezione who's who in duplice copia che con l'abilità don meno uno metterà ko un personaggio con costo pari o inferiore a 3 sul campo rivale king che con lo stesso prezzo metterà ko un character con costo pari a 4 o inferiore e lo stesso kaido in veste di personaggio che riponendo 5 don dal terreno al don deck metterà ko un pirata con costo pari a 6 o inferiore sul campo di battaglia del vostro oppositore in più essendo l'unico nel mazzo con l'abilità rush potrà attaccare e minacciare seriamente con un valore di 10.000 le carte presenti nella pila della vita rivale ora qualcuno potrà farsi una domanda mamma mia arconte quante carte don riposte nel loro deck ciò non rallenterà troppo lo svolgimento della strategia di gioco necessaria a portarsi a casa la partita a tale scopo ci saranno i due jack e le quattro copie dello stage onigashima island che forniranno per il personaggio la possibilità di spostare una carta don esaurita dal proprio mazzo al terreno di gioco scartando una carta dalla mano per innescarne l'effetto e semplicemente utilizzandola per l'isola dandovi la possibilità di recuperare le risorse utilizzate totalmente o in parte andando direttamente ad arginare le abilità dei potenzianti dei vari elementi presenti nel deck infine gli eventi racchiuderanno tutta l'essenza di questa corazzata avendo a propria disposizione quattro copie di blast breath che permetterà attraverso la sua abilità counter di aumentare di ben 4000 punti la potenza di un vostro personaggio leader in campo arginando eventuali attacchi rapidi provenienti da chi vi giocherà contro e le due copie di brachio bomber e lead performer disaster che nel primo caso metterà k.o. un character con costo pari a 6 o inferiore sotto il controllo rivale ed in entrambi i casi sia attraverso l'innesco ordinario dell'effetto che per il loro effetto trigger aiuteranno a far tornare preziosissimi donne dal loro mazzo sul campo di gioco in stato di attivi e quindi pronti per essere impiegati al meglio personalmente mi ha colpito il suo modo di affrontare una partita calmo e sicuro delle proprie possibilità il giocatore che ha utilizzato questo deck non si è fatto scrupoli a schiantare leader molto più validi in fattore di statistiche come crocodile o kid ad esempio che sotto il suo passaggio sono caduti come foglie dagli alberi in autunno e credo che chiunque dovrebbe almeno giocare una decina di partite per comprenderne appieno la vera essenza un deck assolutamente non da sottovalutare passiamo ora a colui che nei vari tornei in giro per l'italia ha dominato letteralmente le classifiche risultando il più scelto in assoluto durante i tornei stiamo parlando ovviamente di kid e del suo mazzo verde se sceglierete kid avrete tra le mani uno degli archetipi più versatili che esistono ovvero il mid range il leader esaurendo tre don e scartando una carta dalla mano avrà la possibilità di sferrare un secondo attacco rendendosi davvero pericoloso nelle fasi centrali ed inoltrate di un match a dargli una mano di certo ci saranno le due copie di trafargar lo che all'evenienza gli garantiranno un terzo attacco e la quadruplice copia di drake che se gli assegnerete un don e lo utilizzerete esaurendolo fornirà un bonus di più mille potenza ad ogni supernova e membro della marina presente sul vostro campo di battaglia per sfoltire la borda avversaria verrà in aiuto anche la doppia copia di hawkins che se attaccherà un character nemico una volta che gli assegnerete un don verrà ripristinato pronto per combattere nuovamente la sezione di presenza a bordi invece vedrà 14 carte che comprenderanno 4 copie di heat 4 di kobi altrettante di vito e solamente 2 di urog che potrà ottenere assegnandogli un don un aumento di 2000 punti potenza a condizione che per quest'ultimo siano presenti in campo almeno 3 personaggi alleati controllo del campo rivale che potrà essere facilitato anche dall'intervento di killer in duplice copia che appena entrerà in gioco metterà ko un personaggio avversario con costo pari o inferiore a 3 come in ogni mazzo ci sarà anche la sempre verde parte dedicata alla carne da cannone che con le 4 copie di bepo utile per il counter e capone come blocker argineranno come meglio potranno le offensive che subirete cosa che riuscirà benissimo fare invece al kid personaggio che con un valore di 7.000 e le sue abilità blocker e don per uno alla fine del turno tornerà pronto fornirà una sicurezza non indifferente avendo la capacità di attaccare e difendere come nessuna carta presente nei 4 starter ultimi ad essere trattati ma non per importanza saranno le 4 copie di bonnie che vi daranno la possibilità esaurendo un don di visionare le prime 5 carte del mazzo andando a scegliere tra di esse una carta contratto supernova aggiungendola alla mano per poi posizionare le restanti in fondo al deck nell'ordine che preferirete apu infine anche lui in 4 copie agirà direttamente sui don avversari andandoli ad esaurire controllando le reazioni difensive rivali tornando inoltre utile per eventuali counter con 2000 a più in supporto a scratchman ci saranno le due copie dell'evento straw sword che agirà in questo caso su un personaggio esaurendolo questo potrà tornare utile su blocker o character fastidiosi che potranno quindi essere attaccati e distrutti rallentando le strategie del mazzo di chi vi giocherà contro mentre le ultime 6 carte event vi forniranno un counter in più che in fase difensiva vi tornerà sicuramente utile dato che le 4 repel e le 2 scalper forniranno un bonus rispettivamente di 4000 e 2000 punti potenza da aggiungere durante una battaglia ad un vostro personaggio o leader inoltre per entrambi i casi potrete settare un don utilizzandolo per lo scopo in stato di pronto per gli effetti trigger inoltre per la sword ci sarà la possibilità di giocare una carta supernova dalla mano con costo pari o inferiore a 2 mentre per lo scalper disettare addirittura due don attivi pronti all'evenienza per essere utilizzati come meglio si crederà non c'è da stupirsi se kid è stato ed è tuttora il mazzo più selezionato e colui che ha portato a casa più risultati utili aggiudicandosi la maggior parte dei primi posti nei tornei svolti in tutta la penisola cosa dire se non un mazzo che si adatta a qualsiasi situazione agro al punto giusto con un mix di control che davvero fa il suo lavoro a pieno un mid range in piena regola pronto per riversare sui poveri sventurati che gli si pareranno contro tutta la sua furia distruttiva passiamo ora all'ultimo starter presente tra i quattro ovvero crocodile che tra tutti è stato quello che personalmente mi ha divertito di più se opterete per crocodile vi ritroverete a giocare un classico mazzo control il leader al costo di 4 don tolti dal campo di battaglia e inseriti nel rispettivo deck vi permetterà di rimbalzare un personaggio con costo pari o inferiore a 5 nella mano dell'avversario e di certo non sarà l'unico elemento a svolgere questo compito di controllo board dato che a tale scopo ci saranno anche le due copie di teach e le due di doflamingo che rispettivamente toglieranno dal campo di gioco character con costo pari a 3 o inferiore per il primo e costo pari a 7 o inferiore per il secondo ricevendo ulteriore supporto sia difensivo che per l'appunto di controllo board grazie anche alla versione personaggio dello stesso crocodile che in doppia copia non solo avrà una preziosissima abilità blocker ma assegnandogli anche un don nel vostro turno durante la fase difensiva vi permetterà di piazzare un personaggio nemico con costo pari o inferiore a 2 sul terreno in fondo al mazzo del proprietario per controllare non solo il gioco ma anche la pescata con le quattro copie di kuma riuscirete a vedere le prime tre carte dalla cima del mazzo risistemandole poi nell'ordine che vorrete evitando eventuali pescate morte inutili alla strategia del mazzo e se dovesse capitare che elementi utili allo svolgimento del match verranno distrutti e posti nella pila degli scarti attraverso l'utilizzo dell'effetto della duplice copia di moria potrete recuperarli per impiegarli nuovamente durante il match essendo un archetipo che farà della supremazia di campo il suo punto forte la doppia copia di sento maru si presterà perfettamente allo scopo dato che assegnandogli un singolo don andandone di seguito ad esaurire altri due vi darà la possibilità di giocare direttamente dal mazzo un pacifista che sarà presente in 4x e che farà inoltre parte del reparto di sfondamento del deck stesso assieme a validi character come weevil in quadruplice copia jimbe con altrettante carte e mihawk in doppia copia quest'ultimo utile anche per eventuali counter con 2000 più mentre per il reparto carne da cannone questo deck conterà la bellezza di 12 elementi partendo dai 4 buggy anch'essi utili per il counter e la presenza di boa hancock e trafargar low con abilità blocker in 4 copie ciascuno per le event invece si avranno due love love mellow che con la loro abilità counter consentiranno di aumentare di 4000 unità il valore di potenza di un personaggio o leader sotto il vostro controllo permettendovi inoltre di pescare una carta dal mazzo se avrete tre carte o meno nella mano e la quadruplice copia ciascuna delle carte trust pad cannon e sables che rimbalzeranno rispettivamente un personaggio con costo pari o inferiore a 3 e con costo pari o inferiore a 7 dal terreno alla mano avversaria con abilità trigger che ne innescheranno gli effetti appena menzionati per le abilità trigger riguardanti invece i personaggi presenti nei 4 starter tutti riporteranno la dicitura play this card quindi una volta rivelate dalla pila della vita potrete giocarle senza pagarne il costo convertito in don conclusioni i 4 starter di one piece verranno venduti ad un costo indicativo di 15 euro conterranno carte con art esclusive di rarità rainbow foil su ogni elemento sarà riportata la dicitura super pre-release con finitura dorata che non sarà presente durante il rilascio previsto per dicembre ogni mazzo avrà una propria identità e a seconda dello stile di gioco di ogni aspirante re dei pirati si potrà scegliere il deck che più si tratterà alle proprie esigenze se siete collezionisti mantenerli sealed vi consentirà di avere a disposizione dei pezzi davvero unici che potranno acquistare valore con il passare del tempo se invece sarete semplici giocatori assicuratevi una copia di ognuno ed iniziate a testare le varie strategie di gioco in torneo o semplicemente tra amici soprattutto in previsione dei booster pack che presto saranno disponibili sul mercato in lingua inglese prima di concludere e dare un giudizio in merito volevo aggiornarvi su un piccolo dettaglio per niente trascurabile i prezzi ultimamente sono aumentati per le versioni pre-release toccando cifre importanti quindi se avrete la possibilità di acquistarli in un evento organizzato fatelo altrimenti potrete ritrovarvi ad avere a che fare con cifre discretamente alte che supereranno di gran lunga il costo originario dei quattro deck un consiglio aggiuntivo che mi sento di darvi è quello di aspettare quindi fino a dicembre d'altronde mancano solamente meno di due mesi per fare vostra la copia o le copie dei leader che avrete più a cuore garantendoveli a prezzi di mercato prendete questo video come un'anteprima di ciò che vi aspetterà subito dopo il lancio ufficiale di one piece previsto per la fine dell'anno torniamo a noi quindi alla luce di tutto ciò converrà acquistare i quattro starter set di one piece la risposta è sì sia se apparterrete ad un filone che all'altro o magari ad entrambi di sicuro possedere questi starter vi darà una possibilità certa di affacciarvi al meglio sullo sconfinato mondo di questo tcg se sarà di vostro interesse in uno dei prossimi video parleremo dello svolgimento ideale di una serie di turni dal vostro primo fino a quando non avrete 10 don da utilizzare per ogni singolo mazzo tematico così da darvi un punto di vista generale su quelle che potranno essere le varie giocate ideali durante un match e voi a quale archetipo di mazzo appartenete come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video io Grazie a tutti.